Ionia, un Professional Day che vede il PAT coeso, è così? Sicuramente, il PAT è coeso non soltanto in questa circostanza, è coeso da un po' di tempo ed è molto consapevole che ha un ruolo nella società importante e vuole metterlo a disposizione della cittadinanza. Qual è questo ruolo e come può essere messo a disposizione? Vede, la crisi economica del Paese è molto forte e difficile anche da superare, le categorie tecniche in particolare hanno delle soluzioni, soluzioni che mettono a disposizione di chi andrà a governare fra poco e con la speranza che questi capiscono che la risoluzione del problema e l'eventuale superamento della crisi non può avvenire di botto, ma deve avvenire solo per piccoli passi. E allora in questa logica noi diciamo che ci sono almeno 12 sono i punti che noi abbiamo portato, ma io mi limito a indicarne i tre che conosco meglio, che riguardano un giacimento energetico che il Paese ha enorme, non sottoterra ma sopraterra, basta avere la capacità e l'intelligenza di sfruttarlo. Analogamente c'è il problema della sicurezza che deve essere assolutamente risolto e quando pensiamo che 8 milioni di unità immobiliari in questo Paese hanno l'impianto elettrico fuori norma, beh credo faccia un po' impressione, 8 milioni di unità immobiliari significa il 40% delle abitazioni. Miniamo alla sua categoria nello specifico, i periti industriali, in che modo voi potete essere utili al Paese? Ma noi siamo una componente dell'area tecnica e dunque vogliamo essere ora e allora e sempre una componente multidisciplinare assieme agli altri, non vogliamo essere qualcosa di singolo, anche se ripeto le cose a cui ho fatto riferimento prima appartengono particolarmente a noi.